Si sta lavorando ad alcune proposte emendative al testo del decreto legge Covid che contiene l'obbligo del Green Pass, ma la posizione del sindacato Udir che raccoglie i dirigenti scolastici è chiara e netta. Senza alcuna contrarietà al vaccino, che anzi è stato promosso tra il personale con una campagna di sensibilizzazione, l'obbligo del Green Pass porta ora a una presa di posizione contraria. I dirigenti non ci stanno a sostenere l'imposizione del certificato verde al personale scolastico, docente e non docente, come non ci stanno a vestire i panni dei controllori e sanzionatori, perché dicono la scelta deve essere libera. Il sindacato dei presidi Udir non è contrario alle vaccinazioni, ma come sindacato dei dirigenti scolastici sentiamo di dover esprimere una forte contrarietà all'idea che i presidi debbano sanzionare chi non desidera vaccinarsi e addirittura con la minaccia espressa sul piano della norma di essere a loro volta sanzionati se non si trasformano in sanzionatori sanitari. Siamo contrari a svolgere questo ruolo per una ragione culturale. Noi siamo un'istituzione scolastica, noi siamo un'istituzione formativa, educativa, didattica, non ha niente a che vedere con le azioni di repressione, tanto più in ordine a un vaccino sul quale noi con coerenza stiamo praticando la vaccinazione, ma sussistono anche sul piano dell'evidenza scientifica una serie di riserve, soprattutto sugli effetti a lungo termine. Quindi vorremmo restituire intanto all'utenza, alla cittadinanza generale il diritto di decidere se vaccinarsi con un vaccino sperimentale di cui non tutto sugli effetti si conosce, ma soprattutto respingiamo l'idea di diventare sanzionatori di chi a scuola non volesse o non non ritenesse opportuno vaccinarsi.